Una rissa per futili motivi scoppiata nella casa che ospita 18 migranti a Enego. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri ad affrontarsi per una questione legata all'uso della cucina tre richiedenti asilo. A un certo punto è spuntato anche un coltello. Dalle parole si è passati ai fatti per poi transitare in ospedale. Il caso riaccende e probabilmente avrebbero fatto anche a meno di avere questo tipo di attenzione i riflettori su Enego. Anche perché in una piccola comunità peraltro di montagna tutto questo ha un impatto grave. Peraltro così Enego rischia veramente di non farsi una buona nomea perché qualche settimana fa il furto nella casa di Diego Dallapalma a cui lui tiene moltissimo. Questa volta questa presenza che tra l'altro ho segnalata dai residenti da tempo di troppi ragazzi giovani che non fanno nulla e che sono lì confinati e che poi evidentemente riescono a far parlare di loro i fatti di cronaca. Questo non va bene perché poi la cosiddetta accoglienza diffusa che tanto era stata richiamata dal governo precedente pensava che mettendoli nei piccoli paesi, nelle piccole comunità questi poi avrebbero potuto in qualche modo essere dimenticati e forse perché integrarsi certo no. Donazzan chiede pene esemplari. Per i tre soggetti subito l'espulsione. Se noi non interveniamo con durezza ma domani questi 18 potrebbero decidere che non ne possano più di stare in quell'appartamento, di condividere la cucina che non gli va bene il cibo che gli viene dato. Da Enego a Rossano per parlare della questione tra il sindaco Morena Martini e la cooperativa che vorrebbe ospitare un gruppo di migranti. Alla luce di quanto è successo a Padova con una cop e altri dirigenti della prefettura sotto indagine per favori reciproci bisogna tenere la guardia sempre alta. Ritengo che queste cooperative che ormai dappertutto si dimostrano essere delle grandi aziende d'affari, ecco, devono essere punite perché poi i soldi sono i soldi delle tasse degli italiani.